La situazione di classifica dice questo perché in certi momenti del campionato è giusto curare ancora di più ogni particolare, non che prima non lo si faccia, ma in certi momenti bisogna fare qualcosa in più. È vero che il dato statistico dice che ci saranno ancora 13 partite e il calcio mi ha insegnato che in 13 partite può succedere veramente di tutto, però è in dubbio che dopo domani è una partita che dobbiamo vincere per dare un segnale importante perché è una concorrente diretta e di conseguenza la stiamo preparando curando ogni minimo dettaglio. Luca viene dalla settimana scorsa che questa influenza l'ha debilitato molto e praticamente ha fatto 5 giorni dove non si è allenato. Dario si è allenato con noi, c'è qualche piccolo problemino ancora, però mi piace sottolineare lo sforzo che stanno facendo per dare una piena disponibilità. Poi deciderò in funzione dei segnali che harò, abbiamo ancora due allenamenti, però l'importante è che siano con noi, che hanno lavorato con noi e che ci sia da parte loro grande disponibilità per essere del gruppo in un momento molto importante del campionato. Io penso che è giusto che noi pensiamo sia un caso perché non abbiamo pensieri che ci sia qualcos'altro. Il lato statistico è forte e noi cercheremo di entrare di più in aree e creare situazioni che possono farci fare gol o di conseguenza far sì che l'avversario per impedircelo faccia una scorrettezza che ci consente di avere un calcio rigore a favore. Di conseguenza noi ci proviamo sempre, continueremo ad attaccare l'area con grande convinzione per fare gol o perché possa accadere qualcosa che ci consente di avere un rigore a nostro favore. No, è legato al fatto che in questo momento voglio tenere molto alta la concentrazione, è un momento molto importante, è un momento che comunque il fatto che tutte le squadre possono preparare nei dettagli queste 14 finali mi consente di lavorare in maniera anche inizio settimana particolare su qualcosa che voglio vedere, voglio provare e capire se è realizzabile. In conseguenza capisci che come vi ho detto anche precedentemente non dirò se cambieremo situazione, modulo tattico, cosa andremo a sviluppare perché secondo me la squadra anche col 5-3-2 ha dato segnali molto importanti, continuo a pensarlo e di conseguenza vedremo un po' quelle che saranno, lo vedrete domenica, le situazioni che metteremo in campo. Questa squadra l'ha già fatto a gara, prima della gara, inizio quando sono arrivato io quest'anno, l'abbiamo fatto spesso anche l'anno scorso, durante la gara ci sono sempre degli adattamenti che abbiamo giocato con un trequarti sotto due punte, abbiamo giocato con le due punte esterne nella prima punta, non cambiando comunque la disposizione della difesa che è rimasta a tre e di conseguenza ci sono tante situazioni che possiamo sviluppare e cercheremo di adottare quella che secondo me è la migliore per affrontare il Catania. La consapevolezza che sia una partita importantissima, fondamentale per tanti motivi, non lo voglio nascondere ma è giusto che sia così e l'abbiamo preparata così, con grande convinzione, con grande rabbia agonistica perché è giusto che sia così. Però il calcio insegna che quando ci sono tante partite può succedere di tutto e se voi andate a leggere queste prime 24 giornate si sono date per morte squadre che poi si sono rimesse in corsa, di conseguenza è il calcio che mi insegna questo ma non voglio nascondere assolutamente l'importanza che riveste questa gara che è una gara che come ho detto quei segnali che io vedo devono diventare concreti e dunque devono diventare un risultato importante per noi.